Buon giovedì 11 maggio, prima di tutto ricordo che oggi non ci sarà né il laboratorio né la scuola, perché ci stiamo preparando per andare ad Assisi, un buon numero, una piccola comunità di persone convinte di andare a fare esperienza di condivisione con una molteplicità di persone che magari la pensano in maniera diversa, sfumature che derivano dall'esperienza e dalla conoscenza che ciascuno di noi è chiamato a mettere insieme esperienza e conoscenza. Questo rende possibile che ognuno di noi possa diventare in qualche modo umile scienziato, navigatore nell'esistenza, immaginare mete e trovare compagni con i quali attraversare il vasto mare della vita che ci precede e sarà dopo di noi. Il tema del congresso di quest'anno, come più volte abbiamo ripetuto in queste settimane, è l'etica e la declinazione della responsabilità e della condivisione. Avremo bisogno di porci ulteriori domande. Fare attenzione a non trasformare l'etica in una morale nella quale si distinguono i buoni dai cattivi, anche relativamente agli stili di vita. Stili di vita sani, stili di vita malsani. Ennesima dicotomia. Alcolisti, bevitori responsabili e moderati. Sani mentalmente, malati mentalmente. Non funziona così. Sì, per molto tempo abbiamo inscenato categorizzazioni che pongono distinzioni dicotomiche. Da una parte gli uni, dall'altra parte gli altri. L'ecologia sociale e antropo-spirituale ci insegna che queste distinzioni sono del tutto arbitrarie. Che ognuno di noi, di fronte al manifestarsi di un sintomo, è chiamato a mettersi in discussione, a fare i conti con la realtà che sta vivendo e non assegnarsi che tutto rimarrà sempre così com'è. Ognuno di noi può essere protagonista, anzi, dovrebbe pensare che ha il dovere di essere protagonista. Non c'è pensione rispetto al protagonismo esistenziale. Questo ci è chiesto, come diceva Udo, l'infino ai fiori, fino alla fine dei nostri giorni. Con entusiasmo, passione, perseveranza, anche di fronte alle difficoltà, alle apparenti catastrofi esistenziali che attraversano la nostra esistenza. Abbiamo estremo bisogno oggi, più che mai. Di fronte al susseguirsi di crisi profonde che caratterizzano la multidimensionalità dell'esistenza umana e che evidenziano la crisi profonda del tempo attuale. Una crisi che è stata generata da una cultura dominante a tutti i livelli, compreso quello sociale e sanitario, ma non solo. Una cultura che si è forgiata intorno all'idea che ognuno di noi possa e debba essere autosufficiente, qualora non lo sia, è destinato o all'esclusione, o a un assistenzialismo che lo definisce il soggetto non autosufficiente, cronico, irrimediabile. Non si valorizzano le risorse, si sottolineano i difetti e le mancanze. Si guarda con attenzione nei confronti delle fragilità e non ci si accorge che la fragilità è una caratteristica umana, anzi è una caratteristica della vita in questo pianeta, delle creature di questo pianeta. La vita è fragile, delicata, ma perseverante e noi siamo chiamati a rispettarla se vogliamo rispettare noi stessi. Ogni ferita che noi infliggiamo a nostra madre terra è una ferita che infliggiamo a noi stessi e alle generazioni che verranno dopo di noi. In questi giorni sta copiosamente piovento. dovremmo rendere grazie a Dio o alla natura a seconda del nostro modo di pensare, la dimensione della trascendenza. però magari ci irritiamo perché avevamo programmato qualche gita anche ad Assisi. Le previsioni ci dicono che ci sarà una certa probabilità di pioggia. Fino a qualche settimana fa avremmo fatto anche la danza della pioggia, ma oggi magari ci lamentiamo, siamo dei lamentosi cronici, i quali non colgono che anche nella realtà della pioggia vi è qualcosa di magico, anzi, nostra madre terra ha bisogno di essere nutrita dalla pioggia e in questa pioggia dobbiamo cogliere un altro aspetto, purtroppo quest'acqua è profondamente inquinata dai manufatti umani, da tutto ciò che gli umani fanno. La mano umana forgia per ragioni di rincorsa all'autosufficienza e a uno sviluppo inarrestabile, forgia strumenti, elementi che sono dannosi per l'ambiente. Ecco, questi sono gli argomenti che dobbiamo riprendere in mano, riconoscendo di essere sostanzialmente interconnessi, in modo radicale e ineludibile, non possiamo permetterci di pensare che possiamo essere autosufficienti e pertanto la non autosufficienza non è una condizione che caratterizza una stagione della vita, una condizione relativa a un fatto tragico che possa essere avvenuto nella nostra esistenza, penso a un incidente della strada, una malattia, dove non ce la fai da solo, hai bisogno degli altri. Ma quando sei nella pienezza della salute, per quale ragione ti sottrai a questo bisogno di stare insieme agli altri? Ecco che allora l'etica da morale si fa coscienza relativa alle conseguenze nei confronti del creato di ogni nostra traccia comportamentale, ogni gesto. Pensate all'uso delle bevande alcoliche, il sacro santo dire che l'alcol etilico fa male, è cancerogeno, produce tantissimi danni e è causa di tante malattie. Non c'è solo una correlazione, in alcuni aspetti c'è anche una causa diretta e questo può essere un elemento sufficiente per assumere un atteggiamento critico nei confronti del consumo di bevande alcoliche, ma c'è quel cos'altro che riguarda la ragione economica. L'alcol è fonte inesauribile di trasgressività, di slatentizzazione della pulsionalità più profonda, la quale ovviamente non va condannata a priori, altrimenti entriamo nell'area del moralismo. Che ci siano desideri di godimento è sacro santo per la coscienza umana. Il mondo animale li vive obbedendo alle leggi di natura. Noi siamo il soggetto più libero, fragile e pericoloso della terra. Questo è il grande dilemma relativamente all'antropologia, cioè al logos, alla logica che l'umano mette in evidenza attraverso il suo comportamento, che è in gran parte di natura possessiva, egocentrica, supponente e autoreferenziale. Questo lo troviamo a tutti i livelli, nelle relazioni affettive, nella dimensione politica. Dobbiamo liberarci da tutto questo, perché siamo appunto liberi anche dai condizionamenti della cultura esistente. E siamo chiamati, proprio per questa istintualità egocentrica che ingombra la nostra coscienza, siamo chiamati non alla rivoluzione, ma alla ribellione, alla sovversione esistenziale a partire da se stessi. Dobbiamo liberarci da tutte le forme ingannevoli, illusorie che sono state messe in piedi per venirci incontro, così si dice per essere più sicuri. E questo ha generato ostatività nei confronti del prossimo, nella sua evidente diversità. Non dobbiamo negarla, non c'è nessuno da integrare. c'è una necessità di un meticciato costantemente da rinnovare. Pensate al nostro paese, siamo un paese di meticciato, di diverse culture, lingue. Sì, poi abbiamo costituito la lingua italiana, tanto per metterci d'accordo, ma le intonazioni, le sfumature sono molto diverse. L'arte culinaria, è sensibile alle condizioni ambientali date e questa terra, straordinariamente ricca di meticciato, di mescolamento, di culture, di popolazioni che vengono da realtà diverse. Questo meticciato è sotteso dal nostro essere un'unica specie, non ci sono razze. Eppure ancora vi è una evidente tendenza a distinguere per razze, magari li chiamiamo in modo diverso, etnie. Sono diversi, sono di un'altra etnia, non osiamo dire razza, ma per molti è un sinonimo di razza. Quella sostituzione etica di cui ha parlato quell'improvvido ministro, cognato del primo ministro, il familismo al potere. Ecco, queste sono forme grottesche del potere. E dovremmo in qualche maniera rendere evidente il grottesco, al di là dell'immaginare che siano fascisti o meno, ma è questo il tema fondamentale, è che hanno una vocazione alla tirannia e all'autoritarismo. E questo fa sì che l'uomo, creato libero o evolutivamente generato in una tensione verso la libertà, non può essere assoggettato, non ha bisogno di decisori al tuo posto. Tu sei chiamato alla responsabilità e questo è il significato, a mio parere, dell'etica, cioè di una coscienza critica che nel comportamento svela la propria responsabilità, il proprio modo di rispondere all'esigenza dell'altro, al dovuto nei confronti dell'altro e contemporaneamente si genera una condizione nella quale la condivisione è un'istanza non obbligante ma necessaria. E la condivisione vera non nasce da un atteggiamento caritatevole dall'alto verso il basso come purtroppo una parte significativa del volontariato attua nel corso della propria azione sociale. Anche i club molto spesso hanno questa tendenza caritatevole, dall'alto verso il basso, dalla supponenza di coloro i quali dicono che ce l'hanno fatta perché hanno smesso di consumare bevande alcoliche e guardano con mestizia, a volte anche con respingimento. Quanti non intendono assolutamente smettere di consumare bevande alcoliche e sono benevoli magari nei confronti dei familiari, i quali perseverano non solo nel comportamento di un consumo che ritengono moderato ma anche nell'idea che loro sono diversi dall'alcolista di turno. Questa è una posizione dall'alto verso il basso che tutti, come vedete, possono a un certo punto essere tentati di abitare. La supponenza dall'alto verso il basso ma anche nel venire dal basso c'è qualche supponenza. Noi dobbiamo guardare non più in una verticalità ma nella orizzontalità che ci mette tutti sullo stesso piano ma radicalmente diversi ciascuno. Tutti siamo diversi ma tutti siamo responsabili di tutti. Non è uno slogan, è un invito esistenziale a vivere una pratica della vita che è rispettosa, responsiva, rispondente rispetto a ciò che ci mostra la natura. La siccità, la pioggia, le inondazioni, lo scioglimento dei ghiacci, l'elevazione della temperatura di uno o due gradi. Non gli sbalzi di temperatura che possiamo conoscere in questi giorni, fa freddo, fa caldo. Non è questo. La sensibilità di nostra madre terra è relativa a piccole variazioni. Mezzo grado, un grado, due gradi fanno una differenza sostanziale e possono generare condizioni climatiche catastrofiche. E tutto questo è da ricondurre alla necessità di rivedere i nostri stili di vita, i nostri comportamenti, i nostri atteggiamenti, il nostro moralismo radicato e radicale. Per noi andare alle radici significa trovare la bellezza della comunità del mondo vegetale. Una comunità ricchissima di vera e autentica comunicazione. Una comunità che sa esprimere la pienezza della solitudine e della connessione comunitaria. Dobbiamo imparare dal mondo vegetale e dobbiamo avere cura del giardino del creato, che è la fonte inesauribile che sostiene la vita su questo pianeta. Questo richiede una riformulazione profonda dei nostri atteggiamenti, del nostro comportamento. Eliminare definitivamente qualsiasi forma di distinzione arbitraria e dicotomica di normalità e devianza. Ci sono i normali da una parte che possono essere buoni accoglienti o respingenti, ma si definiscono normali entrambi, sia gli accoglienti che i respingenti. Ci sono i impianti dall'altra parte che possono essere disponibili a entrare in relazione o anche radicalmente avversi a qualsiasi forma di relazione e si chiudono. In piccole comunità autarchiche, come vedete, non c'è da santificare né normalità né devianza. In entrambe le condizioni, che poi parametriamo sulla base di criteri che sono stati definiti dalla cultura dominante, quella parametrazione che è moralista, farisaica e ipocrita. Però tutti siamo esposti allo stesso modo a questa profonda tentazione di giudizio nei confronti del prossimo, di supponenza di normalità nella nostra posizione. Eliminiamo definitivamente queste distinzioni e consideriamo semplicemente la centralità della vita con tutte le sue sfumature, le quali contengono in sé contraddizioni molto profonde, delle quali non dobbiamo avere paura, dobbiamo farci angosciare del fatto che siamo attraversati da contraddizioni, imperfezioni, insuccessi. Perché se noi sappiamo accogliere la vita come dono, come dono da conservare e seguire nella sua trasformazione, essere servitori attenti della vita è la postura esistenziale che dovrebbe caratterizzare la vita senza giudizio, sapendo di avere dei pregiudizi, liberarci dai pregiudizi e rimanendo sempre attenti che in ogni caso alla fine finiamo sempre per formulare un giudizio. Sono comprensibili fragilità umani che attengono la questione della coscienza che non è mai sufficientemente libera e liberata. Noi dobbiamo liberare questa coscienza da tanti fardelli che costituiscono i pesi che la cultura dominante ci ha riservato per impedirci di volare alti. Questo è il punto fondamentale, volare alti per procedere in avanti e camminare leggeri in superficie, camminare leggeri anche di fronte alle asperità. Questi sono gli elementi a mio parere che dovrebbero caratterizzare una vita che sappia esprimere la pienezza di una visione ecosistemica la quale non forgia mai dogmi. Il metodo, questo il metodo, neanche il metodo Udoli è una condizione di assolutizzazione. Il metodo Udoli è stata l'esperienza di Udoli che dobbiamo leggere, approfondire e studiare e coglierne soprattutto. Il messaggio che contiene è a mio parere quel messaggio che è stato reso evidente nell'opera di Udoli, è un messaggio che appartiene alla storia della coscienza dell'umanità, alla sua millenaria saggezza che precede la scoperta scientifica, che dovrebbe sostenere la scoperta scientifica ricordando a chi fa scienza di essere semplicemente un umile interprete di una conoscenza che penetra il mistero della vita con un atteggiamento contemplativo e non di supponenza che significa entrare in punta di piedi con passione, entusiasmo, dubbio, proprio nell'armonia e nella bellezza del mistero della vita. Andremo ad Assisi, tra pochissimo partiamo e andremo nella terra di San Francesco che dovremmo rileggere costantemente nella nostra esistenza dono per l'umanità. Dopo 800 anni continua ad essere un dono che molto spesso noi cerchiamo di eludere perché ci mette profondamente in discussione. Ad Assisi potremo contemplare la bellezza di un messaggio e contemporaneamente accogliere e accettare la nostra difficoltà di vivere sulla scia di quel messaggio. Non rassegniamoci ma coltiviamo entusiasmo per andare avanti con passione anche quando le condizioni esistenziali magari sono caratterizzati dalla perseveranza di una ricaduta nel consumo di bevande alcoliche o altre droghe o nelle scommesse o il nostro umore particolarmente crepuscolare. Alziamoci in piedi e camminiamo, vogliamo alti giorno dopo giorno con entusiasmo. Vi auguro una buona giornata e nei limiti delle possibilità cercherò di fare anche qualche diretta proprio da Assisi. Buona giornata a tutti.